Dopo la sentenza d'appello controversa e ingiusta quanto la prima, stiamo formando un team di avvocati che porti Andrea ad avere giustizia e soprattutto a tornare a casa dalla sua bambina e dalla famiglia. Chiediamo un contributo libero che ci possa aiutare a sostenere le spese legali di Andrea. Quello che per voi potrebbe sembrare un piccolo aiuto, per noi sarà fondamentale. Aiutateci a ridare la vita ad Andrea che da quasi tre anni sta vivendo un incubo ed è stato accusato senza alcuna certezza e solo sulla base di supposizioni. Questo non può e non deve essere sufficiente a distruggere la vita di un uomo, soprattutto quando basterebbe riaprire il caso per far sì che in breve tempo lui tornerebbe alla sua vita con la sua bambina. Aiutiamo Andrea, basta poco per ridare speranza ad un papà che vive nel terrore di non poter crescere sua figlia, soprattutto perché è innocente. Grazie.